No, mi di sotto No, ti giuro, c'ho il buco del culo troppo largo E non so per quale motivo E ogni tanto me la faccio sotto Cioè non c'ho più lo stimolo, il senso dello stimolo La merda passa, vai e viene da sola Non so perché proprio Cioè ogni tanto me cago proprio sotto, capito? Incontrenza L'incontinenza, esatto Ma è dovuta Ma è dovuta, sai perché no Perché mi padre ci aveva un brutto vizio da piccolo Ecco Che te segura, vai Così ti voglio valentoso Bravissimo, bravissimo Guardo l'alto Venite polizioni, venite Le piccole pallottole pure sulla testa Questa sì che parlare cazzo Volete la guerra e che guerra sia, venite Tento, attento Ma non ho capito perché questo spara tutti i colpi nella porta Che ha passato, è successo Pronto, quinto mi raccomando Io fuori sento l'Iraq Sono andato per un PM Spara la porta Spara la porta E boh, spara la Non è male Stai pronto, quinto Attento, attento, quinto Occhio aperto amico, concentrati Occhio aperto Alla E non c'è Chi ha spara la porta, tu o loro? Come vi chiamati? Io Jimmy Jimmy? Sì Ok, io mi chiamo Quinto, piacere Ah, piacere Quinto No, no, no Piacere L'ospedale come tirocinante ha detto i servizi di volontariato Il signor Trevor Cain viene dichiarato colpevole per aver esercitato una professione senza avere una regolare licenza E sarà contannato a 10 mesi di carcere e una multa pari a 50.000 dollari Il questore, Frank Wolf, per le suddette accuse, per le mancanze in servizio, per l'utilizzo improprio della divisa esercitata sul territorio della città di Los Santos In base alle prove raccolte e fornite a questa corte, viene dichiarato colpevole Dato il servizio prestato alla città di Los Santos, potrà continuare il servizio di polizia, ma come agente E verrà degradato dal ruolo di questore Le spese processuali, pari a mezzo milione di dollari, verranno pagate dalla polizia di Los Santos No La sentenza è data Eh, beh, 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 non piace Ok Ma la salve per voi Ah, buonissimo, è fluido Cazzo Tutti qui da noi Io sono senza arma, sono senza arma Sono senza arma Decidenti? Ma mi ha tirato giù Cazzo Porca puttana Abbattuti, abbattuti Abbattuti, abbattuti Entrambi Ok, a posto Che ci facevate qui voi Che ci facevate? Siamo venuti a recuperare un'arma, ragazzi Ma da dove? E quello lì ci sparava Mettiti da questa parte Se ci metti da l'altra parte Allontanati, allontanati 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 Mi piace Annaggiamo Oltraggio alla corte 200.000 dollari E 40 mesi di carcere Vada Vai Perfetto, ora sì Va bene? Vada, impara l'educazione Adios Portateli indietro Portateli indietro Portateli indietro Portateli indietro, genti Guardi che qua si arriva a un milione Piano piano Dipartimento sarà felice Sono in progetto Di incriminarla Ancora una volta Per oltraggere la corte Cosa ha da dire a sua discolpa? Mi spiace Mi scusi Mi spiace? Mi era l'intenzione E neanche farmi sentire Quello che stavo dicendo Quindi insomma Perfetto Sono 400.000 dollari E 40 mesi di multa E 40 mesi di carcere Vada, vada Sì, siamo tutti in posto Anche, giusto Vada, vada No, ma che scambi Ma che scambi Ma che scambi Oh, scendi Scendi da sovracquinto Dove, com'è? In dove? Scendi da sovracquinto Oh, ma che cazzo sto a fare? Levate che se no Devi andare a una pistola Una puntolata sulla testa Cosami, cosami Scusate Scusi Allora Allora comunico Uniti che c'abbiamo E la giarazzi C'ha un po' con lo stronzo Io ho visto il castello No, era un blef Era un blef Ho sentito Foto Ho sentito Aaaaaaah Ti va allontanare Che ha detto? Era venuto Oh, mamma Che ha detto? Oh, anche che questo Tira qualche nezac Raga, allontanatelo Via, via, via Fuori, fuori, fuori Uno sniper Prima categoria Fuori dal cazzo Fuori dal cazzo Veli viola Vieni qua, vieni qua Ma signora, forse non ci siamo capiti Se li continua così Potremmo essere Portati in cina Che cazzo sta succedendo? Sì, ma le vuoi andare in cina? Ma, è matto Ma, tu sia male Ma, ma che vuole far perdere il posto di lavoro Ma cosa stai facendo? Dice, ma mi perdoni Il capo di un'altra Mi stiamo andata Sicurando tutti quanti Sì, ti viene conto Chiediamo l'accusa Facciamo la misura Vi raccordate, era un pezzo di carta Eh, avvocato dell'accusa Sì La, la... Che giudice che adesso Appirati, tu è la simbio del merda Porco diablo Sì, lo so, lo so, lo so Oh sì Atterrato o ferito? Sì, venino La vicina A pecorina Sicuramente prima vorranno abbattere quello fuori E poi entreranno tutti Allora vado a prendere qualcosa da mangiare Chi deve su? Vuoi un passaggio? Sì, grazie Cioè non lo batte la macchina Sì, col cazzo Ok E adesso io vi darò il perdono Siete pronti? Parco diro! Quindi la situazione rimane risolvere il problema tuo E il problema suo Giusto? Ah, il problema è stato di fatto che quando io ho fatto del male a Ettore Dora mi ha fatto una foto Però ha fatto una foto quando Cioè ovviamente ci siamo messi, ci siamo posizionati Come Ettore che sparava a me Però avevamo le... Cioè aveva scattato Carca diavola morta Massima rilevanza Non è vero, stava appena uscendo Va bene uscendo Ma in questo caso era ancora dentro il lavoro del tribunale Quindi io adesso le incrimino per oltraggio alla corte E la condanno a 10 mesi di carcere Agenti, portatela via Mi sembra un po' una puttanata Buona giornata comunque Mi sembra un po' una puttanata Aspetta, aspetta gente 30 mesi di carcere Continui? Vabbè lo cominciamo questo video Vada, vada Vada, vada Fatela tornare indietro Fatela tornare indietro Ma perché fa così ogni volta lei? 20.000 dollari di multe e 30 mesi di carcere Portatela via No Faccia 40 Adios Portatela indietro Portatela indietro Portatela indietro 40 mesi di carcere Si fa E inoltre si fa 100.000 dollari Portatela via Vai Ancora che ride Portatela indietro Portatela indietro Si vede che gli piace Mezza la ganna Ciao Porca madonna Che botta Aia Che doros